E di due feriti non gravi il bilancio della lite avvenuta ieri in via Magellano sul litorale di Ponte Cagnano-Faiano. Il tutto è cominciato all'interno di un bar dove un rumeno, che era in compagnia della moglie, ha pestato per sbaglio un piede ad un italiano. Un incidente che ha fatto volare via qualche parola di troppo e che ha portato ad una colluttazione durante la quale il rumeno avrebbe ricevuto un pugno. Successivamente lo stesso avrebbe tirato fuori un coltellino ferendo l'italiano all'avambraccio. Un taglio lieve sul quale è stato applicato un solo punto di sutura. Sul posto gli operatori del soccorso del Vopi che hanno trasportato i due feriti presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno dove sono stati medicati e giudicati guaribili in pochi giorni.